La provincia spezzina si piazza al 42esimo posto nella classifica della qualità della vita stilata dal sole 24 ore risalendo tre posizioni. Anche quest'anno l'indagine prende in esame ben 90 indicatori suddivisi nelle tradizionali sei macro categorie tematiche, ciascuna composta da cinque indicatori che accompagnano l'indagine dal 1990. Ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. In un dato spezia fa meglio di tutti con il tasso di mortalità più basso d'Italia in relazione agli incidenti stradali. La peggiore performance per la nostra provincia si registra invece nella qualità delle strutture ricettive dove ci si colloca al 105esimo posto. Perse 38 posizioni nell'indicatore affari e lavoro e in discesa anche l'ambito relativo a ricchezza e consumi. Si risalgono invece posizioni sul fronte giustizia e sicurezza e anche sul fronte della qualità ambientale. Se spezia al 42esimo posto con Savona subito dietro al 44esimo, Genova dal 19esimo scende al 26esimo posto. Fanalino di coda Imperia collocato al 77esimo posto di una classifica che vede al primo posto Trieste.